Partecipò quasi per caso al cantagiro del 1962 nel girone B dedicato agli esordienti e ne uscì, vittoriosa, ottenendo inoltre il terzo posto nella classifica generale, senza aver ancora inciso il brano in concorso. L'abbraccio, il brano venne presentato nella trasmissione Incontro con Neil Sedaca in data 28 ottobre 1962 a cui presero parti anche Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Rosi e un giovanissimo Gianni Morandi. Fu quindi messa sotto contratto dall'etichetta discografica R.C.A. per la quale incise altri 45 giri e, l'anno successivo, il suo primo album diario di una sedicenne, un concept album arrangiato da Ennio Morricone che contiene il suo brano di maggior successo, Quando vedrete il mio caro amore. Nel 1964 partecipò con Ogni Felicità. Canzone scritta da Loredana Ogni Bene. Autrice di tutto l'album diario di una sedicenne. Al Festival delle Rose 1964. Partecipò altre quattro volte al cantagiro. Presentando i brani Cosa fai dei miei vent'anni Al Cantagiro 1963. La legge dell'amore Al Cantagiro 1964. Ti vedo uscire, che otterrà anche un disco d'oro in Spagna. Al Cantagiro 1965. E chiaro di luna sul mare Al Cantagiro 1966. Inoltre partecipò al Festival di Sanremo 1967 con il brano Una ragazza. Nel 1971, in occasione del passaggio alla casa discografica King, intraprese una collaborazione con alcuni dei più importanti cantautori italiani che scrissero per lei gran parte dei brani del disco Storia di Storie. Con le firme di Franco Battiato, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli, Umberto Bindi, Giorgio Gaber, Sergio Indrigo, Bruno Lauzzi, collaborò in seguito anche con Franco Califano, Fred Bongusto, Memore Migi e Tony Cucchiara incidendo nel 1972 LLP Conto Terzi. Nello stesso anno debuttò come conduttrice televisiva. Senza tanti complimenti. Incontro con i cantautori registrato alla RAI di Milano e proseguito l'anno successivo dagli studi. Di Torino con il titolo E tu che ne dici. Sempre dal centro di produzione del capoluogo piemontese e l'avrebbe poi presentato. Nel 1975, plurale femminile, presentandolo con Millie, partecipò inoltre, con Io per amore, a Canzonissima 1972. Nel 1977, prodotta da Shell Shapiro, ottenne un buon successo con il brano piano. Inciso con lo pseudonimo di M. System Orchestra, durante gli anni Ottanta, pur continuando ad incidere dischi. Si dedicò soprattutto alla conduzione di programmi radio RAI. Tra cui mille una canzone e carta bianca. Quest'ultimo accanto al giornalista sportivo Massimo De Luca. Ha iniziato a interessarsi anche di canzoni per bambini incidendo nel 2000 l'albume Zucchero Filato. In collaborazione con il maestro Luis Enrique Sbacaloff e Loriana Lana. Per poi approdare alla musica sacra. Un ambito che tuttora la vede in attività fra dischi e recital. Donatella Moretti è laureata in lingue.